Il fattore di verde sono delle piccole, queste peste sono delle correnti, il mare si rigiaccia, e non risolvono, poi è acqua dolce. I forti di verde sono anche dei forti più piccoli, quindi le vedrete anche successivamente, sono delle piccole più belle. Il ghiaccio cerca di scemmere anche se è inverno, però i ghiacciati dei svalter sono sono ghiacciato, parabuffo, sono ghiacciato sul foro su cui forza la mia terra perché c'è un terreno anche in basso dello zero e quindi è come si possa asfalto che non dà questa fatta di aria e acqua che piacciono l'alto, sono più dinamici, sono molto di buono, internazzi, noi invece abbiamo fatto ghiacciato. Ah, e questo è il motivo per il quale non ci sono ghiacciato? Sì, è questo. C'è la cerca di scendere comunque, anche se è bloccato, e quindi sul gordo, come vedete, il blocco di ghiacci del mare, il ghiacci del mare è stato in quel modo che si sono inarcate le parti del mare che si è più grande. Grazie. Grazie.